Si era sparsa la voce che sarebbero finiti tutti a casa gli operatori della cooperativa Città del Sole che hanno in appalto dal Comune il servizio di assistenza agli anziani. Invece nell'emore che il bando venga riformulato e la conseguente gara bandita è stata firmata la proroga del contratto sino a dicembre. Anche se i 30 operatori lavoravano già in regime di proroga. L'atto si è reso necessario, ha commentato l'assessore alla solidarietà sociale Piero Cavaleri per evitare l'interruzione del servizio nell'emore che venga perfezionato un bando di gara che comprende il servizio di assistenza agli anziani, il funzionamento degli asili nido e il servizio di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti. Tre bandi in uno che permettono all'amministrazione e ha continuato l'assessore a ramo di abbattere in maniera consistente le spese derivanti dai costi di pubblicazione necessari per ogni singolo bando.